Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Benvenuti a NetTalk, il podcast, scusate volevo dire, benvenuti a NetTalk, la nostra deep dive nel mondo digitale. Oggi ci tuffiamo in un tema che ha fatto parlare negli Stati Uniti e che potrebbe, chissà, avere ripercussioni anche qui da noi, in Italia, intendo, i social media e la politica. E per farlo, beh, ci concentreremo su un personaggio, diciamo, particolare, Joe Rogan. Ah, Rogan, interessante. Sì, e il suo ruolo nelle elezioni americane del 2024. A guidarci in questa esplorazione, beh, c'è un'esperta di comunicazione digitale e politica. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Allora, prima di iniziare, vorrei capire meglio chi è questo Joe Rogan. Beh, Joe Rogan è un personaggio, come dire, eclettico, un camaleonte, fa tante cose, comico, commentatore di UFC. Ah, sì? Ma soprattutto un podcaster di successo, con il suo The Joe Rogan Experience. Il suo podcast è famoso, sai, per interviste, interviste lunghe e informali. E ospita veramente chiunque, atleti, scienziati, celebrità e ovviamente anche politici. Quindi uno che, diciamo, non si fa problemi ad affrontare temi diversi, a dare spazio a voci diverse. Esatto, esatto. Interessante. Ma cosa l'ha reso così bello, influente? Beh, la svolta è arrivata, diciamo, con l'accordo. Sì. Multimilionario con Spotify. Ah, Spotify, certo. Questo gli ha dato una visibilità. Beh, pazzesca. L'ha trasformato in uno dei podcaster più ascoltati al mondo. Caspita. E di conseguenza la sua influenza è cresciuta, beh, a dismisura. Capisco. Però ha detto che Rogan è un personaggio, beh, discusso. Di cosa si tratta nello specifico? Diciamo che le sue posizioni, spesso provocatorie, non sono sempre andate a genio a tutti. C'è chi parla di disinformazione sui vaccini, commenti controversi su, beh, etni e stereotipi, posizioni politiche, diciamo, ambigue, per non parlare del suo sostegno alla legalizzazione della marijuana. Ah. E una, diciamo, totale libertà di parola. Ecco, questo mi fa pensare. Rogan ha ospitato Trump nel suo podcast, giusto? Sì, sì. Durante la campagna elettorale. Esatto. Con tutti questi temi caldi di cui abbiamo parlato, come si inserisce il suo podcast nel panorama politico americano? Beh, quell'episodio è stato un momento, diciamo, cruciale, immagina. Trump riesce a raggiungere un pubblico nuovo, soprattutto giovani uomini, spesso poco interessati alla politica tradizionale. Cioè, come se Rogan avesse aperto una porta a un elettorato nuovo, diciamo, disilluso dai soliti canali. Sì, sì. E i social media. Che ruolo hanno giocato in tutto questo? Fondamentale. Pensa all'effetto amplificatore dei social. Le discussioni, le polemiche scatenate dal podcast di Rogan si sono diffuse online, beh, a macchia d'olio. Hanno polarizzato l'opinione pubblica, hanno influenzato il dibattito politico. Ecco, dove volevo arrivare? La polarizzazione. Sui social è come se, non so, ci rinchiudessero in delle bolle. Ci facessero vedere solo ciò che conferma le nostre idee. Ma quindi, Rogan, con la sua libertà di parola assoluta, ha alimentato questa polarizzazione. Difficile dirlo con cercezza. Di sicuro, però, ha contribuito a diffondere messaggi, diciamo, controversi. È diventato una specie di megafono in grado di raggiungere milioni di persone. Sì, certo. E questo, beh, ha sicuramente avuto un impatto sul dibattito politico americano. Caspita, un potere enorme. Ma ecco la domanda che ci poniamo a net talk. Questo fenomeno americano, l'influenza di figure come Rogan sui social, può ritetersi in Italia. Ci sono personaggi simili anche da noi? Beh, diciamo che anche l'Italia non è immune a queste tendenze. I social media stanno diventando sempre più importanti, anche nella politica italiana. E la polarizzazione del dibattito pubblico, beh, è evidente. Quindi anche qui rischiamo di ritrovarci intrappolati in queste bolle di cui parlavamo prima. Purtroppo sì. Vediamo crescere la diffusione di fake news, l'attacco alla democrazia rappresentativa, la politica sempre più incentrata sui leader, l'uso di nuove tecnologie come i big data nelle campagne elettorali. Sembra quasi che l'Italia stia seguendo le orne degli Stati Uniti. Ma siamo davvero destinati a diventare una copia carbone degli americani anche in questo? Non proprio. Ci sono delle differenze importanti. Il nostro sistema politico è parlamentare, basato su coalizioni e partiti strutturati. Una tradizione diversa da quella americana. E poi c'è l'influenza dell'Unione Europea, un fattore che nei Stati Uniti non esiste. Quindi potremmo dire che la struttura del nostro sistema politico ci protegge in qualche modo da questi fenomeni? In parte sì. Però la storia di Joe Rogan ci insegna che social media hanno un potere enorme e possono influenzare profondamente la politica. A prescindere dal sistema, dobbiamo esserne consapevoli. Hai ragione. Ma come? Quali sono le lezioni che possiamo trarre da questa esperienza americana per non cadere nelle stesse trappole? Beh, prima di tutto l'importanza di una comunicazione, diciamo, diretta e autentica. I politici non possono più nascondersi dietro slogan vuoti, devono entrare in contatto con le persone, ascoltare le loro preoccupazioni e rispondere in modo trasparente. Quindi niente più frasi fatte nel linguaggio da detti ai lavori. Bisogna parlare la lingua della gente, essere diretti, sinceri. Esatto. E poi l'analisi dei dati è fondamentale. I social media offrono un mare di informazioni sugli elettori, i loro interessi, le loro paure. Già. Usare questi dati in modo etico e intelligente può aiutare i politici a creare messaggi più efficaci e a raggiungere il pubblico giusto. E qui entra in gioco il micro-target ingiusto. Quasi come se i politici potessero cucirci addosso i messaggi che vogliamo sentirci dire. Proprio così. E questo può essere molto efficace ma anche rischioso. Ecco, mi sembra un terreno scivoloso. Parlando di rischi, la disinformazione, le fake news, la polarizzazione del dibattito, come possiamo difenderci da tutto questo? Dobbiamo promuovere la trasparenza, l'accuratezza delle informazioni, educare le persone a distinguere le notizie vere dalle bufale, a sviluppare un pensiero critico. I politici, beh, anche loro hanno delle responsabilità. Giusto. Ma a questo punto mi chiedo, quali sono le strategie che i politici italiani stanno adottando sui social media? Stanno usando le stesse tattiche di Rogan? E soprattutto funzionano? Beh, diciamo che i politici italiani si stanno muovendo su un terreno abbastanza simile a quello di Rogan, anche se con le dovute differenze, per esempio, molti cercano di costruire un'immagine più umana, più vicina alla gente comune. Quindi niente più politici ingessati e distanti, quasi come se volessero diventare i nostri amici sui social. Esatto. Pubblicano foto della loro vita privata, dei loro hobby, delle loro famiglie. Insomma, vogliono far vedere che sono persone normali, con le stesse gioie e gli stessi problemi degli altri cittadini. Certo, come se volessero dire, ehi, sono uno di voi. Ma oltre a questa umanizzazione, quali altre strategie usano? Per la comunicazione è diventata più diretta e informale addio al linguaggio politico burocratico troppo complicato e distante. Quindi niente più paroloni incomprensibili. Meglio a volte sembra quasi che usino un linguaggio in codice, ma questa semplificazione non rischia di banalizzare i temi importanti. È un rischio certo, ma l'obiettivo è quello di creare un senso di familiarità e di fiducia con gli elettori di parlare la loro stessa lingua. Capisco. E per quanto riguarda l'interazione con i cittadini, sui social si legge spesso di politici che rispondono ai commenti che fanno sondaggi. Esatto. Molti politici usano i social per interagire con gli elettori, rispondere alle loro domande, raccogliere suggerimenti, organizzare sondaggi online. Insomma, cercano di creare un canale di comunicazione a due vie e di ascoltare le voci dei cittadini. Che vuol dire, la mia porta virtuale è sempre aperta. Un bel cambiamento rispetto alla politica del passato, chiusa nei palazzi del potere. Ma non dimentichiamoci del micro-targeting di cui parlavamo prima. I politici italiani lo usano. Assolutamente sì. Sai, può essere molto efficace, immagino. Un politico che usa i dati raccolti dai social media per capire quali sono i gruppi di elettori più interessati a certi temi, come per esempio l'ambiente. E quindi, cosa fa con queste informazioni? E può indirizzare i suoi messaggi, meno adomirato, a questi gruppi, proponendo soluzioni specifiche per i loro problemi, quasi come un sarto che cusce un abito su misura. Quindi, un ente più messaggi generici per tutti, ma messaggi personalizzati per ogni gruppo di elettore. Effettivamente potrebbe essere una strategia vincente. Ma non ti sembra un po' invasivo? Certo, l'utilizzo dei dati personali è un tema delicato per questo. E' importante che i politici usino queste informazioni in modo trasparente e responsabile, rispettando la privacy degli elettori, altrimenti si rischia di creare diffidenza e allontanare le persone. Già un po' come quando navigliamo online e veniamo bombardati da pubblicità personalizzate. A volte può essere utile, ma spesso è fastidioso e invasivo. Ma troviamo a noi. Qual è l'impatto generale di queste strategie? I social media stanno davvero cambiando la politica italiana? Senza dubbio. Stanno rendendo la comunicazione politica più immediata, più diretta, più personale? Stanno creando nuove opportunità di partecipazione politica, ma anche nuovi rischi di manipolazione e di disinformazione? Quindi, un'arma a doppio taglio. Dal lato la possibilità di avvicinare i cittadini alla politica e di renderla più trasparente. Dall'altro rischia di manipolazioni e fake news. Insomma, un terreno scivoloso da percorrere con cautela. Esattamente. I politici sono chiamati a cambiare il loro modo di fare politica, essere più trasparenti, più responsabili, più vicini ai cittadini. Cittadino, dal canto suo, deve imparare a muoversi in questo nuovo mondo digitale, con consapevolezza, verificando le fonti e non prendendo tutto per oro colato. Parole sante. E questo ha portato grandi cambiamenti. Pensa, per esempio, alla comunicazione politica. In che senso? Beh, è diventata molto più immediata, più diretta. I politici possono bypassare i media tradizionali e parlare direttamente agli elettori. Capisco un po' come Joe Rogan, sono senza filtri, senza intermediari. Sì, proprio così. E questo può essere un bene, ma anche un male. In che senso? Da un lato permette ai politici di stabilire un contatto più autentico con le persone. Sì, certo. Sembra quasi di conoscerli meglio. Dall'altro però li espone a critiche e attacchi diretti senza la mediazione dei giornalisti. Ah, ecco, quindi un'arma a doppio taglio anche questa. Esatto. E poi c'è la questione della personalizzazione dei messaggi di cui parlavamo prima. Giusto quella strategia di creare messaggi su misura per diversi gruppi di elettori. Esattamente. E anche questa è una tecnica usata sempre di più nelle campagne elettorali italiane. Insomma, non c'è il rischio che questo porti a una frumentazione del dibattito politico. Beh, certo è un rischio da tenere presente. Cioè, quasi come se ognuno si chiudesse nella sua bolla. Diciamo che è una sfida per la democrazia trovare un equilibrio tra la personalizzazione dei messaggi e la necessità di un dibattito pubblico condiviso. Hai ragione, è un tema complesso. Però insomma, alla fine i social media stanno migliorando o peggiorando la politica italiana. Beh, è una bella domanda difficile dare una risposta univoca. Già non è facile. Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Certo, come diciamo prima, luce e ombre. Diciamo che i social media sono uno specchio della società, amplificano sia il buono che il cattivo. Ah, è interessante. Quindi alla fine dipende da noi da come decidiamo di usarli. Esattamente. Dobbiamo essere consapevoli del loro potere e usarli con responsabilità. Hai proprio ragione. Beh, grazie mille per essere stata con noi oggi a Net Talk e per averci offerto questa panoramica così interessante su Joe Rogan, i social media e la politica. Grazie a voi per l'invito. È stato un piacere. E a voi, cari ascoltatori, vi invitiamo a continuare la discussione sui nostri canali social. Fateci sapere cosa ne pensate. Alla prossima puntata di Net Talk. Grazie per aver ascoltato Net Talk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio, dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro. Rimani connesso. asia. 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 Grazie a tutti.